È arrivato un nuovo modo di organizzare gli eventi. Show Group è il portale gratuito dedicato al mondo dello spettacolo e dell'organizzazione eventi. Stai pianificando una festa o compleanno? Sei alle prese con un evento aziendale? Stai pensando di organizzare un concerto? Tutto ciò di cui hai bisogno lo trovi su Show Group. Fai una ricerca nella tua zona d'interesse. Leggi i profili dei professionisti di cui hai bisogno. Chiedi la loro disponibilità e un preventivo di quelli che preferisci. Metti un wow ai migliori. Recensisci quelli che conosci. Non avrai più bisogno di chiedere consigli. Ed è tutto completamente gratuito. Senza alcuna spesa di intermediazione. Wow! Sei un artista? Un operatore del settore? Gestisci una location? Crea il tuo profilo su Show Group. Mettiti in contatto con altri artisti e operatori nelle zone di tuo interesse. Aumenta la tua visibilità e i tuoi ingaggi. Il tuo profilo sarà gratuito per sempre. Ma potrai decidere se crescere all'interno del tuo settore grazie ai diversi pacchetti premium. Infatti, con un profilo premium, oltre alle funzionalità classiche, potrai farti trovare più facilmente. Pubblicare i tuoi contatti diretti, visualizzare le tue statistiche, scoprire chi ha visitato il tuo profilo, caricare più foto e godere di molti altri vantaggi. Cosa aspetti? Iscriviti ora! Show Group. Ready to be Wow!